Per noi la transizione ecologica è un fenomeno che stiamo guardando ormai da diversi anni, tant'è vero che il 66% delle nostre aziende, quindi parliamo di micro, piccole e medie aziende, è impegnato ormai da diversi anni in questi processi. Occorre però in questo momento particolare fare attenzione perché vengono spese bene le risorse che sono all'interno del PNRR. Qui noi abbiamo una grande aspettativa, vogliamo però che accanto a questa sostenibilità ambientale e sociale ci sia anche una sostenibilità economica e quindi vogliamo che questo cambiamento, che per noi è un cambiamento culturale radicale, sia anche sostenuto da incentivi e da una gradualità perché certi percorsi chiaramente necessitano di tempo. Noi come associazione ci sentiamo la responsabilità, mettiamo l'impegno perché vogliamo essere protagonisti di questo cambio, di questa ripartenza che il nostro paese speriamo sia finalmente arrivata e lo vogliamo fare accompagnando le aziende e soprattutto facendolo con la responsabilità e la visione per dare un futuro, un mondo nuovo non solo ai nostri imprese ma a tutte le comunità.